Per dimostrare che non sto dicendo una cavolata ragazzi guardate qua ok guardando qui con tutte le impostazioni al minimo proprio che vedete tutto al minimo guardate se io faccio cambio tra questo piccone usando questa skin guardate i miei fps ragazzi ecco prendete come base ora cambio skin e vedrete la differenza Ecco qua ragazzi facendo la stessissima roba potete vedere subito che c'è un incremento di fps usano questa skin e questo piccone che sono molto più semplici diciamo così che le altre due che ho provato prima ok vedete qui la comparazione avete guadagnato un po di fps e anche avete diminuito il vostro input lag solo in questa piccola modifica ragazzi ok ragazzi se giocate da console è ancora più importante una modifica del genere visto che gli fps sono già limitati e gli effetti sono ancora attivati Praticamente al massimo